In via Mazza, ERAP sta concludendo gli ultimi lavori di finitura dell'ex palazzo Imonimo in una proficua operazione di rigenerazione urbana e utilità sociale. Un'operazione che ha consentito infatti di ricavare 24 appartamenti che saranno assegnati per uso residenziale o sociale tramite un bando di edilizia pubblica agevolata che il Comune diramerà dal prossimo lunedì 9 settembre. Sono 24 gli appartamenti che saranno disponibili e una di quelle riqualificazioni prima è intervento a favore dell'edilizia e del residenziale, l'abitativo che per la nostra città è molto importante. Si unisce a tutti gli interventi del PIN qua 15 milioni di euro di riqualificazione e residenza e abitazione pubblica e anche l'intervento del San Benedetto. Il progetto intende dare una risposta all'emergenza abitativa della cosiddetta fascia grigia della cittadinanza ovvero quella con un reddito troppo basso per accedere ad un affitto a libero mercato ma al contempo con un reddito troppo alto per partecipare all'edilizia popolare. I requisiti di ingresso al bando sono infatti quelli di un ISEE compreso tra i 13.699 e i 39.701 euro. È una fascia, diciamo quella grigia, alla quale abbiamo una risposta importante con questi 24 appartamenti. La speranza del Comune è quella di consegnare gli alloggi alle famiglie che saranno individuate tramite graduatoria entro metà 2025. La speranza del Comune